ancora non ci credo ragazzi siamo in partenza e succederà qualcosa di incredibile quest'oggi vi avevo accelto in qualche video che c'era un progetto in ballo vabbè ora finalmente siamo arrivati al punto quale auto prendiamo comunque ragazzi la lamborghini o la bentley a che indecisione voi con l'ascio delle reste come butta ma sai che buono che deve essere ebbene sì ragazzi ci siamo ci siamo la c'è il pastore che sta andando a chiudere il cancello vai chiudi il cancello l'incapucciato che chiude il cancello della futura nostra umilissima dimora l'abbiamo posteggiato al bolide queste sono già le stanze già parte della casa un po' di pacchi un po' di cose wow ragazzi c'è tutta vetrata ragazzi che affaccia su questa fantastica campagna in mezzo al nulla questo comunque ragazzi è l'esterno tutta la casa fatta in pietra che riprende perfettamente anche l'ambiente campagnolo circostante noi abbiamo anche un magazzino non so che magazzino sia è un garage è un garage vabbè ok sono anche due piani perché quello lì è anche un piano sopra come vedete anche là ci sono un po' di vetrata a tre piani a tre piani perché c'è anche quello spazio là in alto ora comunque facciamo anche un giro all'interno della casa ovviamente però prima facciamo un giretto per il giardino facciamo vedere un po' cosa c'è qua intorno però in questo video comunque non farò vedere l'home tour completo poiché l'home tour vero e completo sarà in un prossimo video quindi mi raccomando iscrivetevi al canale attivato soprattutto la campanella perché da settimana prossima ovviamente io e il lord jack che è là davanti ci trasferiremo in questa reggia da 4 milioni questo è comunque il giardino col ponticello lì è molto carino molto carino quella è comunque la casa vista da questa parte del giardino guardate quanto è grande e soprattutto quello spazio lì che probabilmente sarà una specie di salotto là ci sono i vari balconi dei vari piani qua c'è appunto il laghetto il ponte qui davanti dove il lord jack lo sta attraversando no vabbè ragazzi è qualcosa di incredibile ci sembra di essere veramente in un paradiso terrestre qua c'è anche una banchina molto molto romantica e ragazzi tutto questo giardino tutto questo immenso prato fa sempre parte della stessa casa una palestra ah questo spazio qua che vedete totalmente vuoto e dove andrà e sarà quello adibito alla palestra voglio dire anche una stanza un bagno e vabbè poi questo qua comunque è il piano sopra perché noi prima infatti eravamo giù quello lì del parcheggino adesso c'ho le auto cioè ragazzi questa stanza che ha la vetrata qui ed ha sulla campagna è pazzesca ma ovviamente questa non sarà la mia stanza questo bagno però ragazzi devo farvelo assolutamente vedere questo bagno è incredibile guardate qua con la vasca che affaccia le finestre ed ha il ponte dove eravamo prima pazzesco pazzesco ragazzi non vedo la di prevedere il long tour completo quando sarò definitivamente trasferito qui incredibile no vabbè ragazzi mi son perso non c'è più nessuno c'è di qua non c'è nessuno boh non riesco a capire di là c'è qualcuno di là no c'è più nessuno oddio oddio dove è la gente oggi di là io e lord jack qua dietro abbiamo il piatone perché stiamo facendo una cosa incredibile ora vi faccio vedere qui dove va l'altra stanza eccola qua guardate che disastro che c'è in questa stanza guardate quante robe sapete perché? perché questa sarà la nostra futura home gym dove ci alleneremo tutti questi qua sono i pesi abbiamo la le varie pedane eccetera manca ovviamente anche altra attrezzatura che ora stiamo facendo su e giù perché portiamo tutta questa roba qui nella stanza che avete visto sopra che era appunto empty vuota e quindi ora lord jack si farà un po' di palestra dai dai su su carica carica ah troppo pesante sono più da 14 troppo pesante ah pesante troppo troppo attento la palestra sta prendendo forma c'è lord jack allo spacchettamento dei pesi fa anche la pedana sta prendendo forma la palestra è lì in fondo e questa qui sarà la mia stanza ovviamente ora l'apriamo no la faremo vedere nel prossimo video mi chiama lord jack lord jack dimmi dove sei in quale delle 100 stanze sei non qui non qui eccoti qua che ci fai qua io ho la scelta hai la scelta di che cosa più o meno questa cosa ah abbiamo un bracetto di diamanti qua questo è puro swarovski hai la scelta sei troppo indeciso no vedo tra quante stanze ci sono prenderà questa qua perché c'è mio sorello va prenderà quello lord jack prenderà questa perché ci sono così tante stanze che non so nemmeno cosa scegliere e vedi questa è la vita del lord guardatelo lì vuoi un po' d'aria ti faccio le cose qua con le palme guardalo lì lord jack se la mangia dopo aver lavorato ovviamente e noi qua con questa vista dove ci riposiamo come si sprofonda questa qui alla mia spalla ragazzi è solamente una stanza una delle sale da pranzo che ha questa casa poi appunto come vi ho detto vi farò vedere l'home tour completo in un prossimo video perché io sono qui dalle 11 e attualmente sono all'una e mezza circa non ho ancora visto tutta la casa e quindi devo ancora girarmela bene però mi trasferirò qui definitivamente da venerdì prossimo e si ragazzi come avete letto dal titolo vado a vivere con un milionario qui io vivrò con una persona che è milionaria com'è possibile com'è successo restate aggiornati ragazzi iscrivetevi al canale vi spiegherò tutto quanto prossimamente e ragazzi incredibile ci vedete qua c'è pazzesco beh qua c'è un po' di disastro queste sono le mie cose perché stiamo ancora un pochino allestendo le cose questo qua è un mini appartamentino per la donna delle pulizie quindi qua la sua stanza di là ma poi vedremo tutto vedremo tutto vedremo tutto ragazzi beh là ovviamente c'è la lambo parcheggiata e dopo pranzo siamo ovviamente di nuovo al lavoro io e l'or jack dobbiamo dobbiamo infoderare tutti i cuscini con tutti i cuscini ora comunque è giunto il momento di rilassarsi un po' dopo il duro lavoro che abbiamo fatto io e il signore qua comunque in questa casa ci staremo per il momento solamente un mese quindi tutto il prossimo mese siamo sempre a Londra per chi magari stesse chiedendo eccetera siamo circa due ore da Londra quante c'è ormai due ore come si chiama Everdon Everdon si chiama Everdon è una località sperduta che non è Everton ma è Everton perché c'è due città Everton e Everdon questa è Everdon ed è in mezzo proprio al nulla di nulla proprio il primo paesino le prime forme di vita sono tipo tipo 5 km da qua più o meno sono 10 minuti in macchina da qua le prime forme di vita quindi il primo paesino dove appunto si andrà a fare la spesa si andrà a fare quella roba lì e niente ragazzi sì è bene sì è proprio così per 30 giorni vivrò con un milionario è incredibile quindi ragazzi per restare aggiornati su tutte le avventure che faremo iscrivetevi al canale attivando soprattutto la campanella così rimanete aggiornati su tutti i prossimi video ora tra poco ritorneremo a Londra e torneremo ufficialmente qui come vi ho detto prima da giovedì prossimo e inizierà questa lunga avventura questa è comunque la prova di cosa possono portare i giusti investimenti quindi mi raccomando ragazzi sempre sognare in grande perché non è mai troppo tardi per iniziare e un bel eroe e con il più avanti 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 Grazie a tutti